numero 5 questo è un tavolo da pranzo allungabile che si adatta facilmente in qualsiasi ambiente misura 140 per 90 centimetri quando è chiuso ma quando è esteso il tavolo raggiunge una lunghezza totale di 190 centimetri viene fornito con una finitura in melamina di alta qualità che offre un colore quercia canadese e un bianco opaco di alta qualità si tratta di un modello ideale sia per la sala da pranzo che per la cucina con un design elegante colori neutri questo vi permette di adattare il tavolo a qualsiasi stanza della vostra casa in modo semplice a guide di scorrimento in metallo per facilitare l'apertura del tavolo e blocchi abs antirumore e antigraffio trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 questo è un tavolo fisso di colore naturale che ha una grande eleganza grazie alle sue forme semplici e stilizzate ciò gli permette di adattarsi perfettamente a decorazioni minimaliste o industriali le misure di questo tavolo sono 140 per 80 centimetri ed è fatto di materiali rustici ma robusti ha un design semplice per adattarsi perfettamente alla maggior parte degli spazi in cui si desidera installarlo è un tavolo molto robusto con un piano in quercia selvatica di 54 mm di spessore che lo rende molto forte è disponibile in varie combinazioni quindi si può scegliere tra gambe nere o bianche il piano del tavolo può essere fatto di quercia selvatica o di quercia boreal se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 questo è un tavolo da pranzo prodotto in italia con un'ottima qualità e un design molto innovativo si tratta di un tavolo completamente allungabile che ha una lunghezza chiusa di 120 centimetri mentre aperto raggiunge i 200 centimetri di lunghezza le estensioni si trovano all'interno del tavolo quindi non dovrete riporle da nessun'altra parte è un modello facile da aprire e chiudere che vi permetterà di avere una grande versatilità in ogni momento la pulizia è molto semplice e sarà sufficiente pulirlo con un panno umido se ti interessa questo articolo trovi i link in descrizione numero 2 è un robusto tavolo da pranzo fisso con un design semplice lineare misura 160 per cento centimetri è fatto di materiali rustici che sono anche molto robusti è perfetto per ambienti minimalisti grazie alle sue linee dritte e imponenti si tratta di un tavolo solido e robusto che comprende un piano in rovere selvatico di 54 mm di spessore con una venatura naturale a gambe molto larghe e resistenti in metallo e a forma di u 8 per 8 centimetri che gli conferiscono una grande resistenza è un mobile molto resistente che lo rende molto facile da pulire con un semplice panno umido puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 questo tavolo da pranzo è realizzato in rovere massiccio a colori linee raffinate un tocco che darà molta luce a tutti i vostri spazi è un tavolo di grande ampiezza che gli conferisce una grande versatilità e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente è molto facile da montare e può essere assemblato rapidamente da una sola persona è disponibile in diverse misure da 120 per 75 a 220 per cento in modo da poter scegliere la dimensione che meglio si adatta alle vostre esigenze il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione per la visione 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 per la visione